Ottica Mazzolini Ottica Mazzolini inizia nel 1995 la nostra storia Siamo tre fratelli, abbiamo iniziato con un piccolo negozio sempre a clero e piano piano ci siamo ingranditi finché siamo arrivati a questi 250 metri di negozio Siamo specializzati nel lente a contatto si possono anche indossare di notte, quindi di giorno si possono togliere e per tutta la durata della giornata puoi vedere bene quanto con un occhiale da vista Abbiamo tutti i marchi, quindi dalle firme più prestigiosi ai marchi un po' più artigianali del cadore utilizziamo tutte le marche delle lenti a vostro piacimento e siamo specializzati nelle lenti progressive Per gli utilizzatori di lenti a contatto abbiamo un'applicazione dedicata dove si può appunto ordinare i nuovi campioni, le nuove lenti a contatto c'è anche un timer molto comodo per non dimenticarsi quando cambiarle Siamo ottici otto metristi, facciamo visite comunque curate rivediamo addirittura il centesimo di diotria con il nuovo macchinario che abbiamo appena preso e quindi il controllo visivo sarà sempre perfetto e la qualità visiva sarà ottimale Per l'utilizzo di lenti a contatto noi consigliamo lenti a contatto morbide e per quanto riguarda lo sport naturalmente ci sono non solo lenti a contatto ma anche occhiali dedicati allo sportivo quindi anche fortunistici come lenti Lenti a contatto da utilizzare oltre quelle diurne ci sono anche quelle notturne in maniera che si possa utilizzare la massima qualità, il massimo campo visivo e nessun problema negli spostimenti veloci degli occhi Siamo sponsor ufficiali, promovol e lo continueremo a essere Da tre anni ormai lo siamo ma sicuramente dato che siamo flereggi da sempre accompagneriamo i buoni risultati di queste ragazze